amici di no al cinema bentornati sul canale per una nuova recensione ovviamente senza spoiler di un film uscito oggi 17 agosto nelle sale italiane in arrivo in quelle americane di tutto il mondo o giù di lì nelle prossime ore nel prossimo weekend che è alle porte blue beetle terzo di quattro film residuati bellici mi sento di definirli così appunto residuati bellici di del fu di sea extended universe morto come progetto editoriale già da parecchi anni da un punto di vista artistico ma anche a livello progettuale con la rivoluzione dell'anno scorso a firma Peter Safran e James Gunn i cui frutti si spera vedremo cominciare ad arrivare sul grande schermo a partire dal 2025 con superman legacy si è fatta un po confusione su questo blue beetle sappiamo l'abbiamo già detto e lo sottolineo anche per trasparenza e correttezza James Gunn non è stato un campione di comunicazione negli ultimi mesi si è costretto un po gestire una situazione produttiva distributiva e appunto comunicativa abbastanza complicata si è trovato un po a fare il funambolo ha dichiarato negli ultimi mesi lasciandomi anche un po perplesso io che sono un suo fanboy che blue beetle non è il primo film del DC EU del suo nuovo universo condiviso della DC per la Warner ma è il primo personaggio di questo nuovo universo affermazione che lascia alquanto perplessi anche se se ne può capire il motivo c'era un po di curiosità almeno da parte mia nei confronti di questo film perché dei quattro di quest'anno diciamo già in programma di uscita gli altri tre ricordiamolo sono Shazam sono stati nei mesi scorsi Shazam Furia degli Dei e The Flash a dicembre arriverà il quarto e ultimo di questi titoli rimasti diciamo in un limbo produttivo distributivo legato agli anni scorsi sarà appunto Aquaman The Lost The Last Kingdom The Lost Kingdom insomma Aquaman 2 con Jason Momoa quindi quattro film nel corso del 2023 del DC Extended Universe del fu DC Extended Universe tre sequel o comunque due sequel e il primo stand alone di un personaggio che avevamo già conosciuto in altri film appartenenti all'ex universo condiviso di casa Warner Blue Beetle era diciamo il titolo matricola il personaggio non è mai apparsa sul grande schermo è la sua prima avventura e per portare Blue Beetle il personaggio assolutamente secondario al di fuori della cerchia degli appassionati dei fumetti sul grande schermo si è scelto diciamo di abbracciare la versione più recente della storia editoriale del personaggio quella latinoamericana incarnata da Jaime Reyes le cui origini sono completamente diverse nei fumetti diciamo che questa questione della nazionalità latinoamericana del personaggio è stato uno dei selling point, uno dei punti diciamo di forza nella presentazione del progetto dopo tutto siamo nell'epoca dell'inclusività ne abbiamo parlato e continuerò a parlarne fino alla noia sapete penso che non ho niente al contrario a riguardo quando le cose vengono fatte con tutti i crismi con un minimo di tatto come secondo me è successo in questo caso c'è spazio nel film, non faccio spoiler per altri elementi di mitologie di Blue Beetle e non solo legate ai fumetti di Sia alcune io che non mi ero informato per niente al di fuori di qualche visione molto superficiale dei trailer del film sono rimasto piacevolmente sorpreso di trovare determinati elementi appartenenti all'universo fumettistico di Sia in questo film ammettiamolo, alla vigilia dell'uscita nelle ultime settimane, negli ultimi mesi c'era tanto scetticismo un po' perché sia Shazam, Furia delle Idee che The Flash hanno fatto di tutto per sgonfiare anche il minimo interesse morboso basato puramente sulla curiosità nei confronti di questi quattro film DC del 2023 un po' perché il progetto sappiamo essere nato inizialmente come film da distribuire direttamente in streaming sulla allora piattaforma HBO Max che ora ha cambiato titolo nel rebrand guidato da Zaslav nuovo dirigente e capo della Warner Bros e un po' perché appunto i trailer davano questa sensazione di generic comic book film qualunque ci sono due modi per affrontare insomma le mie brevi e comunque relativamente brevi riflessioni su Blue Beetle una sarebbe la più semplice e anche un po' la più codarda quella rapida e indolore dire sì, Blue Beetle è il generic comic book movie che i trailer ci facevano annusare è fondamentalmente un collage di situazioni, scene, addirittura mezzi di trasporto, dettagli di design copie incollati da qualsiasi cinefumetto degli ultimi 10-15 anni non sto a citarli per non fare diciamo troppe anticipazioni la trama è veramente la più basica che un film di origini supereroistiche potrebbe presentare sotto determinati punti di vista tecnici la natura televisiva o streaming che dirsi voglia si nota spesso e volentieri il budget è relativamente basso per il tipo di film e potrei finirla qua c'è un però molto molto importante per quanto mi riguarda l'ho detto a più riprese io ormai quando vado a giudicare un film inevitabilmente mi trovo a giudicarlo anche sulla base di quelli che sono i suoi obiettivi le sue finalità, chiamiamole così quando un cinefumetto assolutamente generico se la sente permettetemi insomma il termine è un po' giovanilistico e crede di fare chissà cosa con una trama trita e ritrita caricandola o sovraccaricandola di elementi melodrammatici, ridondanti insomma chi più ne ha più ne metta tendo a sentirmi respingente nei confronti di un prodotto del genere e questa cosa devo ammetterlo anche con mia sorpresa non è successa durante la visione di Blue Beetle che sì come dicevo poco fa è veramente il cinefumetto di origini canonico banale mi sento di dire per eccellenza ma ha più di una freccia al suo arco innanzitutto ripeto quelli che sono dei limiti di budget e dei limiti anche concettuali di tutto il progetto dal mio punto di vista sono gestiti in maniera intelligente il film non cerca mai di essere niente di più di quello che è un B-movie assolutamente scansonato con la giusta dose tranne un paio di scivoloni di sentimentalismo e di emotività che però non va a sovraccaricare soprattutto di aspettative il film, i suoi personaggi e la sua storia e tutto è talmente preso alla leggera ma gestito in maniera egregia dal regista appunto più o meno esordiente che io devo dire che nonostante appunto questa sensazione di visto e rivisto di masticato e rimasticato, di banale sotto molti aspetti ho voluto bene al film durante la visione è un film che potrei criticare in 200 modi diversi da un punto di vista di scrittura, da un punto di vista appunto di valore produttivo ma che gioca talmente a carte scoperte che mi ha messo a mio agio durante la visione una visione che come spesso accade ormai soprattutto nei filmetti ma in realtà nei blockbuster si divide in due parti ben distinte la prima di preparazione e la seconda di mera azione ecco devo dire che in questo caso mi sono più o meno divertito nello stesso modo in entrambe le metà del film che scorre benissimo per quanto mi riguarda e trova determinati punti di forza in elementi semplici ma determinanti quando ci troviamo davanti a un prodotto del genere innanzitutto il cast solo Mariduegna spero di pronunciare bene il nome sapevo che sarebbe stato all'altezza di come protagonista di un cinefumetto il suo diciamo ruolo il ruolo che l'ha lanciato in quel di Hollywood in Cobra Kai mi aveva convinto fin da subito l'avevo trovato fin da subito ragazzino ormai qualche anno fa all'inizio della serie sequel dei film di Karate Kid molto molto convincente e sono contentissimo di poter dire che insomma quel che di buono aveva mostrato sul piccolo schermo l'ho ritrovato assolutamente al 100% sul grande schermo il suo Jaime è carismatico ma anche fragile sa prendersi diciamo sul serio come uomo d'azione quando c'è da fare il supereroe ma sa anche essere comico sa essere autoironico e mi è piaciuto tantissimo il protagonista di questo film proprio grazie anche al suo attore poi mi sono segnato qualche altro nome del cast Bruno Marchesin è un esordiente assoluto è il suo primo film Blue Beetle almeno così IMDb riporta è assolutamente una diciamo spalla per il protagonista assolutamente efficace anche se diciamo il punto di forza da un punto di vista di personaggi e di dinamiche tra i personaggi del film lo troviamo nella famiglia un po' la Fast and Furious mi sento di dire di Jaime stesso abbiamo Damiano Alcazar che interpreta se non sbaglio suo padre abbiamo George Lopez che è veramente c'era un personaggio più o meno simile al zio Rudy di questo film in Black Adam dove lì non funzionava assolutamente qua abbiamo zio Rudy che è veramente il comic relief la spalla comica per tutta la durata del film e nonostante sia assolutamente sulle righe funziona alla perfezione poi c'è la sorella la madre tutti bravissimi il padre e anche la candidata all'Oscar Adriana Barrasa che interpreta l'altra comic relief del film con un pochino meno di spazio rispetto allo zio ma comunque diciamo che interpreta un personaggio ricco di sorprese ricordiamo Adriana Barrasa interpreta appunto la nonna di Jaime candidata all'Oscar per Babylon per Babel scusatemi di Alejandro González Signarito quasi ormai vent'anni fa un cast che con pochissimo diciamo mi sento di dire fa tanto diverte fa sorridere fa ridere e sa anche tra virgolette coinvolgere nei momenti giusti in cui diciamo il nostro supereroe affronta delle difficoltà ha bisogno del supporto diciamo fisico con presenza fisica o emotiva da parte dei suoi parenti parlare più di così della trama sarebbe entrare in spoiler basti sapere che Susan Sarandon interpreta la villain del film il suo ruolo è abbastanza marginale ma quando in scena funziona dopo tutto siamo davanti a una delle migliori attrici degli ultimi 50 anni di cinema americano ricordiamolo anche lei vincitrice dell'Oscar nel 96 per Deadman Walking un altro elemento che secondo me riesce a sottolineare molto bene e a valorizzare il film nel suo essere così sfacciatamente un bimovie che si rifà le atmosfere scansonate dei film commerciali anni 80 e da un certo punto di vista anche anni 90 è la colonna sonora che ho scoperto essere di un certo Bobby Krillich sapete tutti la mia ignoranza musicale che ho scoperto aver esordito alle colonne sonore per film con un film che a me piace tantissimo Triple Nine codice 999 se non sbaglio di John Hillcott con Kate Winslet e un cast ricchissimo di attori e che soprattutto ho scoperto essere collaboratore di Ari Aster su Midsommare Bo a Paura che sapete che ho tanti problemi con entrambi i film ma la colonna sonora non era fra questi e devo dire che la partitura di questo film mi ha coinvolto molto e mi ha ha valorizzato il film in maniera importante durante la visione mi sono sentito più coinvolto anche grazie alla colonna sonora e ogni tanto quelle piccole cose che fanno la differenza parlavo poco fa del budget decisamente basso ora non mi ricordo a quanto ammonta ma siamo veramente su un budget irrisorio per quanto riguarda un film di supereroi ecco ho parlato prima di quanto il film spesso e volentieri soprattutto nelle scene più tranquille mostri il fianco e riveli un po' la sua natura più televisiva ma nonostante questo quando c'è da fare il film supereroistico qui lo dico e mi prendo la responsabilità di quello che dico ma se andrete a vedere il film secondo me è abbastanza solare nonostante abbia un budget che è quasi un terzo di Flash di Andy Muschietti ha degli effetti speciali dieci volte più validi la CGI e non solo la CGI anche diciamo a livello di costumi di tute da combattimento eccetera per quanto mi riguarda Blue Beetle il piccolo piccolissimo Blue Beetle ha un aspetto estetico dieci volte meglio di Flash che aveva ambizioni soprattutto spettacolari molto molto più alte e già qui veramente dopo lo shock di aver visto una CGI veramente scadente nel film di Muschietti posso ritenere assolutamente soddisfatto perché dopo tutto in un film del genere lo spettacolo la qualità tecnica soprattutto davanti a una trama così banale fanno la differenza e appunto consapevole di un budget così basso devo dire che a un certo punto mi sono sentito quasi di alzare il sopraccino e dire però niente niente male come è resa andare oltre ripeto sarebbe andare nello spoiler io vi consiglio io è un film nei confronti del quale mi sento di consigliare la visione sul grande schermo ripeto sempre invitandovi ad avere le giuste aspettative se voi mi chiedeste se Blue Beetle fosse sia un film di supereroi bello io sarei consigliato a dirvi di no non è un bel film di per sé non vi direi neanche che è un bel film di supereroi di per sé però in un momento in cui il genere ha una sorta di smarrimento e perdita di identità e soprattutto di carattere preferisco cento volte un film così piccolo così chiuso in se stesso e così poco ambizioso anche da un certo punto di vista che sboronate come The Flash che cerca di fare venti cose insieme e alla fine non riesce a farne neanche una Blue Beetle è un film ai minimi termini ma che quando mette di mezzo la famiglia e le dinamiche del protagonista con i suoi parenti un minimo di love story un minimo di mitologia di sì in sottofondo fa il suo sporco lavoro diverte e intrattiene senza pensieri ci sono due scene durante i titoli di coda una la prima importante diciamo anche per un eventuale futuro che chissà se il personaggio avrà il box office secondo me sarà abbastanza impietoso con questo film salvo un passaparola un pochino più positivo dato magari anche dall'appoggio della comunità latinoamericana che è fortissima negli Stati Uniti la seconda potrei dirvi quasi quasi rialzarvi e andare via perché è a mala pena una gag anzi possiamo dirlo ripropone di fatto qualcosa che si vede già nel corso del film se uno vuole restare fino alla fine di titoli di coda faccia pure ma per quanto mi riguarda non ne vale assolutamente la pena sul futuro di cui ho appena accennato del personaggio io non so se Jaime Reyes e se il suo Blue Beetle torneranno veramente nel DCU o se le affermazioni di James Gunn sono state il suo ennesimo tentativo di rendere appetibile di cercare di rendere appetibile uno di questi quattro film che fino ad ora sono stati disastrosi al botteghino ricordiamoci che aveva venduto in maniera assolutamente troppo entusiasta il flash di Muschietti quando in realtà insomma ci siamo trovati davanti tutt'altro non vorrei appunto che le sue affermazioni siano un po' di circostanza quasi come un tastare il terreno in vista di un progetto che è ancora in fase di evoluzione per la natura intrinseca del film ripeto che è assolutamente chiuso in se stesso e non dà praticamente adito a pensare al DC Extended Universe preesistente nonostante come si vede già dai trailer si citino personaggi che abbiamo già visto potrebbe essere tranquillamente un film inseribile nel futuro DCU di James Gunn io sinceramente nonostante io in definitiva abbia apprezzato il film mi auguro di no perché sarebbe l'ennesima volta in cui James Gunn torna sui suoi passi e entra in contraddizione su se stesso ma visto diciamo questo senso di umile piacevolezza mi sento di definirlo che ho provato nella visione di Blue Beetle non escludo che anzi non nego che mi dispiacerebbe rivederlo solo Mariduenni in quella bella tuta di Blue Beetle che ho visto stasera sfrecciare per aria e per terra sul grande schermo è un film dalle diciamo come si chiama dalle ambizioni molto molto basse ma devo dirvi la verità visto che i supereroi sono all'ordine del giorno e da un certo punto di vista c'è la fatica nei confronti del genere come ho detto prima preferisco un film così umile rispetto a a voler mirare troppo in alto per poi crollare miseramente Blue Beetle offre un intrattenimento spiccio ma comunque a tratti molto molto efficace e soprattutto è uno di quei progetti che anche se non brilla per qualità riesce a brillare di luce riflessa quanto meno per la simpatia del progetto stesso quindi io ripeto visto che c'è molta come si può dire c'è molta poca aspettativa nei confronti dei film c'è anche molto cinismo nei confronti di Blue Beetle mi sento di invitarvi a fare un passo indietro e visto che fino alla prossima settimana con l'uscita di Open Army della Casa dei Fantasmi non c'è altro da vedere al cinema o giù di lì vi invito ad andare a vedere il film in sala tanto io non prendo una lira quindi non è un consiglio diciamo come si dice dalla quale devo guadagnare qualcosa mi sono divertito e non l'avrei mai detto tutte le live che ho fatto qui sul canale soprattutto a facce di nerd sono lì a dimostrare che le mie aspettative erano pari allo zero probabilmente come dico spesso è stato il trucco per apprezzare un film ai minimi termini ma comunque divertente e a tratti anche coinvolgente e soprattutto mi sento di dire che Blue Beetle in definitiva è un film simpatico cosa che spesso e volentieri negli ultimi mesi non ho potuto dire per molti molti titoli anche fra quelli molto più apprezzati di quanto sono sicuro sarà apprezzato in linea di massima Blue Beetle questo era l'ultimo contenuto di Inno al Cinema di questa settimana magari torneremo a parlare del film in qualche live futura anche se ormai Venezia alle porte e contenuti diciamo precedenti alla mia partenza per il Lido sono contati vi ricordo lunedì mattina avremo tutti i numeri del lunedì con il box office molto probabilmente la terza e ultima live sulla filmografia di Nolan si terrà sempre lunedì ma di sera perché martedì è il mio compleanno e mercoledì vado al cinema a vedere Oppenheimer questo poi mi potrebbe dare la possibilità giovedì 24 per tutti quelli che hanno visto il film ma in realtà per tutti perché penso di fare una prima metà di discussione non spoiler una seconda con spoiler per fare un movie talk show dedicato a Oppenheimer chiuderemo poi probabilmente le trasmissioni con una seconda e ultima puntata di tutti i numeri del lunedì e in una serata in un pomeriggio ancora da definire con una puntata di The Collector la rubrica dedicata al collezionismo home video questi erano i miei pensieri un po' sparsi e anche un po' confusi perché so stanco e questo caldo mi sta ammazzando su Blue Beetle andatelo a vedere fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate spero che il cinismo ormai che di Laga su internet venga un po' messo da parte si capisca la dimensione del progetto e lo si possa apprezzare anche nella sua semplicità anche nella sua banalità come ho detto finora condividete Inno al Cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto c'è la possibilità di abbonarsi a Inno al Cinema per avere servizi e video in esclusiva seguite la nostra pagina Facebook il nostro profilo Instagram e se volete anche il mio profilo Instagram privato michelinno85 dove condivido un sacco di fregnacci ma dove soprattutto troverete la maggior parte dei miei post da Venezia giorno dopo giorno ricordo anche che da Venezia arriveranno dei diari a blocchi di due o tre giornate dove brevemente commenterò tutti i film che avrò visto al festival mano a mano che gli imbarghi per la stampa andranno a scadere vi ringrazio per aver visto questa recensione senza spoiler di Blue Beetle aspetto i vostri commenti sotto il video diciamo tre su quattro dei film del DC Extended Universe del 2023 sono andati l'ultimo step di questa diciamo di questo calvario almeno per due terzi da spettatori nei confronti della DC ci aspetta a dicembre a fine anno a Natale con Aquaman di Lost Kingdom vediamo come andrà e se come molti dicono sarà l'unico a uscire trionfante sempre che Blue Beetle non abbia delle diciamo degli assi nella propria manica parleremo dei suoi incassi lunedì mattina anche se penso che le notizie in casa Warner non saranno tanto rose vi ringrazio di nuovo per aver seguito questo video ci vediamo con tutti i contenuti del canale nelle prossime ore e nei prossimi giorni un saluto buon weekend domani ci vediamo a faccia di nerd alla 17 alla prossima